I televisori Samsung della serie HU6900 sono Smart TV dotate di pannello LED Ultra HD. Questi TV sono dotati di cornice ultra sottile, un design milimanista arricchito da linee eleganti e splendide finiture. La parte posteriore è dedicata alle interfacce di collegamento. Ingressi ed uscite sono numerosi e consentono di accoppiare il dispositivo con sistemi audio o video esterni in tutta facilità. Ci troviamo di fronte ad un prodotto dotato di grande multimedialità. I nuovi TV Ultra HD Samsung sono equipaggiati con una porta detta One Connect. Tramite quest'ultima sarà possibile collegare il One Connect Box come visto per il modello F9000 oppure i nuovi Ultra HD Evolution Kit, dispositivi venduti separatamente che consentono di mantenere aggiornamenti la vostra TV alle ultime tecnologie e quindi tenendola al passo con i tempi. Questa TV è dotata di un display Ultra HD con retroilluminazione LED e un processore di elaborazione d'immagine Quadmatic. I nuovi TV Ultra HD Samsung sono dotati di una risoluzione quattro volte superiore ai normali TV Full HD. Inoltre le innovative tecnologie Samsung come Ultra HD Diming, Wide Color Enhancer e Clear Motion Rate 200Hz rendono ancor più nitide e reali le immagini visualizzate. Grazie alla tecnologia Color Brilliance le immagini appaiono come sarebbero in natura. I colori sono riprodotti con estrema precisione, come se tu fossi davvero lì ad osservarli. E se tutto questo non bastasse, la funzione di upscaling permette di visualizzare i contenuti in Full HD attuali con l'eccezionale qualità Ultra HD, per godere appieno delle potenzialità di questo pannello. Davvero tante sono le funzionalità rese disponibili da Samsung per questa serie di TV. Innanzitutto la possibilità di entrare in modalità multischermo ed avere quattro schermate visibili contemporaneamente. Ma non dimentichiamo le potenzialità offerte dalla Smart TV, che vi consentirà un facile accesso ad internet mediante cui sarà possibile navigare, guardare filming, streaming, sfogliare le notizie, chattare sui social network o addirittura giocare in compagnia. Gli Smart TV di Samsung ti offrono il meglio della tecnologia con una semplicità nell'esperienza di intrattenimento mai sperimentata prima. Grazie anche alle esclusive funzioni Smart Interaction ed S Recommendation. Samsung Smart TV non solo è in grado di eseguire le tue indicazioni vocali per cercare nei palinsesti qualcosa che ti piaccia, ma è anche capace di scoprire da solo i programmi che potrebbero piacerti, basandosi sulle tue abitudini e sui tuoi gusti. A tutto questo si aggiunge la nuova funzione Football ideata per gli amanti dello sport, che vi permetterà di godere in pieno tutte le emozioni del calcio, stando comodamente seduti in poltrona, ricreando una vera e propria atmosfera da stadio. Samsung HU6900 è una Smart TV completa e dal design elegante, un dispositivo adatto ad ogni soggiorno ed ideale per gli amanti dell'intrattenimento.